Da una lite per futili motivi ad una tragedia degenerata in un omicidio, il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Mater Dei di Napoli. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e dei commissariati Dante e Decumani sono dovuti intervenire in via Benedetto De Falco, dopo la segnalazione arrivata alla sala operativa. La scena che hanno trovato sul posto le forze dell'ordine è stata quella di un corpo senza vita, quello di Mariano Pilato, 47 anni, accoltellato da un amico al culmine di una lite. Le indagini Lampo hanno permesso ai poliziotti di identificare l'uomo ritenuto responsabile della brutale aggressione, Roberto Ambrosio, un 59enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato arrestato per omicidio. Sul motivo del delitto e sull'esatta dinamica dell'accaduto sono ancora in corso le indagini della polizia.